La flat tax serve, allora qua ci vuole una tassazione unica, una tassazione unica seria, non come quella proposta ora in questa legge che parla del 24% messo anche alle società individuali, perché è un pochino una presa in giro questa, e visto che le società individuali e non a capitale sono lo stesso conto corrente, nel senso io che lavoro sono un'ambulante ha lo stesso conto corrente, dover lasciare all'interno tutto quello che sono i miei guadagni, ovvio è che non lo farò mai, per cui ovvio è che quel 24% di tassa fissa non potrò mai accedervi, ne serve una fissa perché quando abbiamo delle aziende, penso sempre alla mia città che è molto tassata, però in generale che arrivano fino a metà settembre a pagare le tasse, ovvio è che fanno fatica a rimanere in piedi e questo è il mondo reale, poi ci possiamo raccontare che invece stiamo bene, ogni anno stiamo migliorando, però penso che chiunque che ci ascolta si rende conto che è una menzogna.